Cos'è questo? Questo è un potenziometro, un dispositivo a tre terminali con un elemento resistivo accessibile che funge da divisore di tensione attraverso il suo contatto strisciante, regolabile dall'utente su un albero rotante. È usato in un numero di circuiti analogici e a segnale misto per soddisfare un'ampia verità di requisiti applicativi. I tre terminali si chiamano VCC, Output e GND.